Questo vuole essere un appello, un appello al voto per quelle elettrici, quegli elettori del campo democratico, quelli che hanno certamente votato nel passato partito democratico, ma poi hanno deciso di astenersi, di non andare a votare perché non ci credevano più, perché vedevano questa sinistra, come dire, sbandare una volta col centro, una volta con Berlusconi, il Jobs Act, insomma, che aveva perso quei suoi valori, quella sua identità. Oggi abbiamo la possibilità, come dire, di ripartire e si può ripartire solo con Elislein, candidata alla segreteria. Domenica ci sono le primarie, quindi il mio vuole essere soltanto questo, un appello al voto libero, pulito, un appello ad andare a votare, dobbiamo essere in tanti e in tanti e non dobbiamo, come dire, farci dai signori delle tessere dei pacchetti di voto, basta, dobbiamo esprimere un voto in piena libertà. Votate per Elislein.